Avrebbe perso il controllo della macchina e si è schiantato perdendo la vita a un biologo di 32 anni che percorreva il viadotto Nino Avola in tarda mattinata a Modica. Inutili soccorsi, adesso la polizia locale indaga la dinamica. Il pubblico ministero ha nominato un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita al 31enne Simone Arancio, avvenuto a Vittoria lo scorso 24 marzo. Indagato una quarantenne di vittoria coinvolta nel sinistro. Protesta dei dipendenti della Multiservice di Catania a causa dei continui ritardi nell'erogazione degli stipendi. La situazione è insostenibile e i dipendenti chiedono risposte. Continuano a Ragusa le polemiche per la scelta dell'amministrazione comunale di impostare il personale del servizio integrativo per gli studenti delle scuole elementari negli asili nido. La CISL attacca il sindaco Ficcitto e l'assessore Leggio. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di MTG. Apriamo con la cronaca. Infatti oggi è accaduto un incidente mortale poco dopo le 13 sul viadotto Nivo Nino a Avola. Ha perso la vita un giovane biologo che ha perso il controllo del proprio mezzo effettuando una curva. Le indagini sono della polizia locale. Sentiamo i dettagli nel servizio di Viviana Sammito. E' quella la curva della morte sul viadotto Nino a Avola Modica dove ha trovato la fine della sua vita un giovane 32enne modicano che nell'effettuare quella curva si è scontrato contro il guarderei dopo aver perso il controllo del mezzo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi. Il giovane è morto sul colpo. La famiglia non era ancora stata avvisata del decesso del congiunto al momento della messa in onda del servizio. Ed è per tale ragione che abbiamo deciso di non rendere ancora note le generalità. Lui stava percorrendo l'arteria quando l'auto ha sbandato e si è schiantata contro un mezzo pesante parcheggiato su un'area di sosta. L'auto articolato ha fatto da muro raddoppiando la violenza dell'impatto. Quel mezzo non doveva trovarsi parcheggiato in quell'area di sosta e secondo quanto si è appreso il proprietario spesso lo lascia incustodito. La polizia locale sta valutando oltre la dinamica anche le eventuali responsabilità di terzi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. E' il secondo giovane a morire sulle strade ragusane a neanche due settimane di distanza dal decesso del barbiere 31enne di Vittoria, Simone Arancio. E ora andiamo a Vittoria dove il pubblico ministero, Santo Fornasier, ieri pomeriggio ha conferito al consulente Antonino Polino l'incarico di ricostruire la dinamica del sinistro in cui ha perso la vita il parrucchiere di 31 anni, Simone Arancio, concedendo 60 giorni per l'espletamento dell'incarico. L'indacata ha una quarantenne di Vittoria difesa dall'avvocato Alessandro Sittinieri, che ha già nominato un consulente di parte. Sentiamo i dettagli nel servizio. La procura eblea ha aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio stradale nei confronti della quarantenne vittoriese coinvolta nell'incidente cui ha perso la vita il parrucchiere di 31 anni, Simone Arancio, il 25 marzo scorso in via Virgilio Lavore, a Vittoria. Il pubblico ministero, Santo Fornasier, ieri pomeriggio ha conferito l'incarico per l'accertamento tecnico irripetibile finalizzato alla ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro all'ingegnere Antonino Polino, concedendo 60 giorni per l'espletamento dell'incarico. Le persone offese, padre, fratello e moglie di Simone Arancio, hanno nominato l'avvocato Serena Costa del Foro di Enne, il consulente di parte, l'ingegnere Salvatore Nicosia di Vittoria. La quarantenne vittoriese, l'indagata, è difesa dall'avvocato Alessandro Sittinieri del Foro di Ragusa, che ha incaricato l'ingegnere Roberto Piccitto come consulente di parte. A partire dalla prossima settimana i periti saranno sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica. La procura ha convalidato il sequestro di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro. Nell'area dell'impatto non ci sono telecamere, secondo quanto si è appreso, ma ci sono i testimoni, e tra loro c'è anche la moglie della vittima, che viaggiava con l'auto poco distante dalla moto condotta dal marito, che si è scontrata nella fase di sorpasso con la Ford Fiesta condotta dalla quarantenne, che stava effettuando la svolta a sinistra. La donna, coinvolta nell'incidente, stava andando a lavorare, erano le 15.30. Dopo l'impatto le condizioni del parrucchiere sono subito apparse critiche. Il suo cuore ha cessato di battere intorno all'1.30 della notte, tra il 24 e il 25 marzo, all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Il giovane indossava il casco, ma era politraumatizzato in tutto il corpo. Saranno i periti a ricostruire le fasi del grave incidente, la cui relazione dovrà essere depositata entro 60 giorni, e la procura a stabilire le eventuali responsabilità. E cambiamo argomento. Gian Stefano Passalacqua è il nuovo delegato provinciale del CONI di Ragusa. L'incarico gli è stato conferito venerdì scorso dal delegato regionale Sergio D'Antoni. A Passalacqua è affidata la gestione del dopocintolo, coinvolto nelle vicende giudiziarie per la gestione dei fondi destinati alla scuola regionale di sport. Oggi l'annuncio ufficiale è nel corso di un incontro con i giornalisti al Palaminardi. Prima di manifestare i miei obiettivi voglio entrare in contatto con le persone che ci lavorano, voglio capire, voglio magari toccare con mano la situazione e poi magari verrò fuori con i miei obiettivi veri e finali. Al momento preferisce non parlare di programmi, già Stefano Passalacqua è eletto venerdì scorso un nuovo delegato provinciale del CONI di Ragusa. Con la sua nomina il delegato regionale Sergio D'Antoni ha voluto chiudere una fase travagliata del Comitato Olimpico Nazionale ebleo. Il dirigente ragusano è stato chiamato a guidare la delegazione eblea dopo le traumatiche vicende giudiziare dell'ex presidente Cintolo e dell'ex segretario per la gestione dei fondi destinati alla scuola regionale di sport. Passalacqua vanta non solo ottime doti manageriali, ma anche una grande conoscenza del mondo sportivo, così come dimostrato alla luce dei risultati ottenuti con la società di basket femminile Passalacqua. In dieci anni è riuscito a portarla alla ribalta nazionale, conquistando più volte la finale scudetto e vincendola l'anno scorso la Coppa Italia. Il CONI ragusano dunque ricomincia da Passalacqua. Stamani il neodelegato al Palaminarde ha voluto incontrare i giornalisti per parlare dell'importante incarico ottenuto. Nel passato io non ho influenza e non ho il compito di andare a capire cosa è successo, non devo svelare nessun arcano, non devo sciogliere nessun nodo. Il mio compito è prendere in mano questa struttura, prendere in mano e portare lo sport ragusano verso lì di più tranquilli, sereni e per le prossime vittorie sul campo. Per quanto riguarda la scuola regionale di sport, ovviamente sono tanti gli appetiti anche da parte di Palermo e Catania. Lei come intende agire? La struttura c'è, esiste, è stata costruita e quindi nessuno la può prendere, rimuovere e portare via. Quindi come posso dire è qualcosa di ragusa, dei ragusani, a prescindere dall'utilizzo che poi in sede centrale a Palermo o a Roma si pensa di poter effettuare. Quindi su questo sono tranquillo e sereno, nessun stravolgimento. Hai già idea di qual è la situazione economica? No, ancora no. A margine dell'incontro con la stampa, Passalacqua ha voluto anche volgere lo sguardo al campionato della formazione eblea che domani giocherà i quarti di finale a San Martino. Gara 2 sabato prossimo a Ragusa alle 20.30, l'eventuale Bella si disputerà a San Martino. Audizione dell'assessore regionale Pistorio in commissione di bilancio all'Ars sul raddoppio della Ragusa a Catania. A comunicarlo è il deputato Nello Di Pasquale. Entro luglio, come ha confermato l'assessore Pistorio che ne ha avuto notizie dall'ANAS, si avrà la consegna del progetto esecutivo. Nel frattempo l'ANAS si è fatta carico di adempiere a tutti gli interventi necessari per mettere in sicurezza gli investimenti. Entro la fine di quest'anno, dicembre 2017 dunque, apriranno i cantieri nella zona di Lentini. Continua il monitoraggio su questa importante infrastruttura, dice ancora l'onorevole Di Pasquale, e sono contento di constatare che la proposta di procedere con un project financing che ho lanciato quando ero sindaco di Ragusa sta andando avanti. E cambiamo argomento, arriva dalla Commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana lo stop alla tassa in cui i cui introiti servirebbero per finanziare l'assistenza ai disabili nell'isola. Dopo un'estenuante riunione della Commissione, che è tuttora riunita, in vista dell'approvazione di finanziare Bilancio, è stato deciso di fermare la proposta del governo Crocetta. Abbiamo indicato un'altra soluzione per evitare l'aumento di tasse, spiega il Presidente della Commissione, Vincenzo Vinciullo. Aspettiamo a questo punto che il governo ci dia una risposta. I deputati propongono a Crocetta di trovare i soldi dai risparmi ottenuti, ad esempio, dice Vinciullo, sulla centrale unica d'acquisto, ma anche su una manovra dell'IVA. La Commissione dovrà approvare la manovra entro la settimana, per poi approdare in aula. Il cambiamo argomento andiamo a Scicli. È opportuno individuare il prima possibile una soluzione per rimuovere i canneti che si sono riversati sul litorale sciclitano. A chiederlo è il deputato regionale Orazio Ragusa, che insieme con il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha inviato una lettera al responsabile regionale del Dipartimento della Protezione Civile, l'ingegnere Calogero Foti. Giunta e maggioranza hanno promosso un vertice per individuare altre soluzioni per accedere all'iter. Sentiamo i dettagli nel servizio. Il caso delle canne che occupano l'arenile di Spina Sante in territorio di Scicli sta diventando un vero e proprio caso di passaggio di responsabilità. Il Comune di Scicli attende l'ordinanza da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al fine di poter rimuovere i resti vegetali. L'ente di via Mormino Penna, infatti, non può provvedere alla rimozione se non con l'ordinanza dell'ente di Viale del Fante, che a sua volta, secondo quanto ha dichiarato lo stesso commissario Dario Cartabellotta, ha, al momento, le mani legate. L'ordinanza non può, infatti, essere manata, o meglio, non lo è stata ancora, perché mancano due documenti. Cartabellotta aspetta, infatti, la relazione da parte del dirigente regionale della protezione civile e dal dirigente regionale del Corpo Forestale. Trattandosi di demanio, il meccanismo burocratico è assai complesso, ha chiarito Cartabellotta, che, interrogato sui tempi, non ha saputo fornire una data certa, in quanto non dipende da lui. Nel momento in cui verranno prodotti due documenti e, appena ne entrerà in possesso, Cartabellotta emanerà immediatamente l'ordinanza, ha rassicurato. Una situazione molto difficile, che ha spinto, infatti, l'onorevole Orazio Ragusa e il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, a scrivere una lettera aperta al responsabile regionale del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero l'ingegnere Calogero Foti. Non si comprendono le ragioni per cui, si legge nella nota a firma dell'onorevole Orazio Ragusa e del sindaco di Scicli, Enzo Giannone, a distanza di alcune settimane dal vertice a Palermo, con la Protezione Civile regionale, il comune di Scicli, alcuni rappresentanti della deputazione regionale, tra cui appunto il deputato Ragusa, la SRR, l'ARPA, l'ASPE e la soprintendenza, tutto si è tornato a tacere in maniera preoccupante, mentre qualcuno, dopo l'alluvione dello scorso mese di gennaio, ha deciso di risolvere la cosa a modo proprio, incendiando parte dell'ingente materiale depositato sulla spiaggia. Durante la conferenza dei servizi, continuano l'onorevole Orazio Ragusa e il sindaco Giannone, erano state esaminate diverse soluzioni, si era preso atto della disponibilità della SRR di Ragusa, organo competente di materia, a procedere alla raccolta e smaltimento delle canne, previa ordinanza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Si era persino detto di creare una specifica area di stoccaggio all'interno della discarica di Ragusa. Insomma, era stato dipinto un quadro complessivo che avrebbe dovuto sanare la questione, nonostante le immense e comprensibili difficoltà di ordine pratico e burocratico. Tutti buoni propositi che, finora, non hanno prodotto il benché minimo risultato concreto. Si legge nella nota dell'onorevole Orazio Ragusa e del sindaco Giannone. Ed è proprio dal palazzo di via Mormino Penna che arriva adesso la richiesta di spostare la cabina di regia per la gestione di questa emergenza da Palermo a Scicli. E adesso andiamo a Catania, dove i dipendenti della Multiservizi del Comune Etneo hanno organizzato un sit-in in piazza Università per lamentare un continuo ritardo nell'erogazione degli stipendi. Ritardi che generano difficoltà agli stessi lavoratori a cui a questo punto chiedono risposte. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sara Donzuso. Troppi ritardi nell'erogazione degli emolumenti mensili. Ciò comporta che lo stipendio si riceve ogni 45 giorni e per chi ha muti da pagare si traduce con un aggravio di interessi senza contare le difficoltà per le spese ordinarie. A lamentare questi disagi sono i lavoratori alla Multiservizi, partecipata del Comune di Catania, che questa mattina hanno ottenuto un non-sit-in nel piazza Università. I lavoratori denunciano anche il fatto che spesso non hanno il materiale per lavorare perché manca la liquidità per gli acquisti. Vogliamo sapere noi proprio dall'assessore alle partecipate dove sta il problema perché mensilmente noi ci troviamo a percepire lo stipendio quasi l'ultimo giorno utile che spetta da contratto che è il quindicesimo giorno e quello che sia. L'azienda dicono che il problema dipende dal Comune perché il Comune magari possibilmente ha dei problemi a livello però noi andando a vedere i nostri lavoratori del Comune percepiscono mensilmente lo stipendio senza nessun ritardo. Allora io posso capire se è un problema che ha il Comune di Catania lo deve avere anche col proprio operato, non ce lo deve avere solo con la Multiservizi, malgrado che attinge dei servizi importanti sulla città. E restiamo a Catania dove a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione i precari del Comune etneo possono contare su una proroga di un mese del loro contratto dopo che lo scorso venerdì erano stati sospesi dal servizio. Un piccolo risultato che però non accontenta né dipendenti né sindacati che sperano in una stabilizzazione e considerano che svolgono funzioni fondamentali per il Comune. Sentiamo i dettagli nel servizio. Tirano il fiato, ma solo per un mese i precari del Comune di Catania, 180 lavoratori che qualche giorno fa erano stati sospesi dal servizio poiché non era stato approvato al Consiglio Comunale il bilancio preventivo. L'approvazione stanotte è arrivata e adesso la proroga del contratto c'è, ma per l'appunto solo per un mese. Nei giorni scorsi i lavoratori sono stati lasciati a casa di punta in bianco così come denunciato all'UGL che ha ottenuto una riunione urgente con l'assessore al personale Marco Consoli e adesso un primo risultato anche se ancora la strada è lunga. Ringraziamo il Consiglio Comunale che stanotte ha approvato il bilancio perciò di conseguenza questo stand-by viene soppassato e i contrattisti avranno la proroga del contratto di nuovo. Ora ci sono tutti gli atti che è l'ufficio personale che la persona del dottor Politano e dell'assessore Consoli devono fare per prorogare il contratto per un altro mese. Solo un altro mese quindi ancora di stabilizzazione non se ne parla? Il processo di stabilizzazione è tutto un itere che è stato avviato e speriamo che finisca presto perché in altri comuni non ci sono state le risorse e molti precari hanno preso il posto di lavoro dopo 20 anni che hanno lavorato presso le amministrazioni. Tra l'altro questi precari in questo momento con la mancanza di personale svolgono dei ruoli importantissimi perché senza di loro la macchina burocratica del Comune si blocca. Con l'approvazione della nuova rete ospedaliera da parte del Ministero si chiude un percorso lungo e complesso che ci consegna finalmente gli strumenti per un profondo ammodernamento e miglioramento dell'offerta sanitaria. Stiamo di fronte a un grande risultato per i siciliani lo dice Pippo Di Giacomo presidente della Commissione Sanità dell'ARS a proposito dell'esito della riunione di oggi al Ministero della Salute. Sento di dover ringraziare il Governo la Commissione e i suoi uffici aggiunge e l'assessore Baldo Gucciardi che ha portato avanti con tenace e competenza il prezioso lavoro avviato da Lucia Borsellino. Nelle prossime settimane ascolteremo le ultime sollecitazioni e segnalazioni che arriveranno dai territori per le ultime limature alla nuova rete che oltretutto permetterà il sospirato sblocco delle procedure concorsuali. E cambiamo argomento e intanto ancora uno slittamento per l'apertura dell'ospedale San Marco di Catania l'ennesima difficoltà di una sanità siciliana e catanese che ha bisogno di risposte certe soprattutto per quanto e quanto concerne la rete ospedaliera così come fa notare il segretario provinciale della UIL di Catania Stefano Passariello. Sono ore decisive queste per la nuova rete ospedaliera siciliana una riformulazione che attende lo che del ministero ma che però sta creando non pochi malumori sia tra gli addetti ai lavori che tra politici e sindacati. Ciò che viene criticato è la mancanza di programmazione e soprattutto la mancanza di personale e poi come nel caso Catanese il continuo slittamento dell'apertura dell'ospedale San Marco. L'assessore sta cercando di riparare questo oggetto misterioso chiamato che è la sanità però bisogna agire bisogna agire con determinazione gli impegni che si sono assunti vicino al sindaco di Catania è stato chiaro l'assessore ma ancora movimento vero non ce n'è non ce n'è perché non so se ancora la politica non si è messa d'accordo o litica a noi come sindacato non ci riguarda questo ci riguarda che si mettono d'accordo una buona volta e aprono questo benedetto ospedale e anche i pronto soccorsi che devono dare veramente una svolta alla cittadinanza. C'è poi il problema anche dei lavoratori servono più medici servono più infermieri e serve stabilizzare i precari degli ospedali. Ma noi l'abbiamo detto stiamo aspettando l'elezione regionale e nazionale per completare quest'opera e non è una cosa giusta che dobbiamo aspettare l'elezione per avere un grande risultato che la gente soffre sulle corsie abbiamo bisogno molto personale il Monte Ore praticamente è ridotto all'assistenza sanitaria noi abbiamo bisogno veramente una svolta ma questa svolta la dobbiamo dare tutti. Ora andiamo a Ragusa dove continua a sollevare polemiche la scelta dell'amministrazione comunale di spostare il personale del servizio integrativo per gli studenti delle scuole elementari negli asili nido protesta la CISL che attacca il sindaco Piccito e l'assessore Leggio per aver avviato il confronto quando era stato già tutto deciso sentiamo i dettagli nel servizio di Carmela Minardo Convocare i sindacati a cose fatte non va proprio giù alla funzione pubblica CISL che attacca il sindaco Federico Piccito e l'assessore a ramo Gianluca Leggio L'incontro si è svolto giovedì scorso tra il personale il sindacato e l'amministratore ai servizi sociali subito dopo le dichiarazioni del primo cittadino che affermava gli insegnanti del doposcuola che si occupano di attività integrative andranno ad occuparsi dei bimbi degli asili dichiarazione secondo Nicusia per nulla rispettosa del confronto in atto il servizio che verrà soppresso dal prossimo anno scolastico è ritenuto importante perché si rivolge soprattutto alle fasce sociali più svantaggiate ai bambini i cui genitori provengono da paesi extracomunitari a quella platea di alunni che altrimenti non riuscirebbero a inserirsi al meglio nell'attività didattica tira dritto per la sua strada l'assessore Leggio la cui priorità rimane il mantenimento dei due asili nido comunali aperti la cosa che a noi preme come comunità è che i nidi non vengono chiusi e quindi dobbiamo riuscire a razionalizzare a ottimizzare ma c'è anche c'è da dire anche un aspetto noi a Ragusa abbiamo più di 28-29 realtà scolastiche le insegnanti delle attività integrative sono presenti semplicemente in 5 quindi nel corso degli anni qualsiasi amministrazione ha cercato di dare un contributo a quello che è l'idea della scuola pubblica del ministero della pubblica istruzione a noi non possono nessuno ci può dire che noi non attenzioniamo l'esigenza degli alunni basta ricordare che nel comune di Ragusa noi offriamo anche il servizio socio-psicopedagogico cioè noi a quello che dovrebbe e che viene garantito dallo Stato attraverso il ministero della pubblica istruzione noi in aggiunta abbiamo dato le attività integrative attraverso questo personale e poi anche il servizio socio-psicopedagogico quindi massima attenzione per gli alunni proseguiamo con le notizie i residenti di Contrada a Monterrato denunciano come il sindaco di Modica Ignazio Abate non abbia ancora riparato le strade che insisto dove insistono le loro abitazioni il primo cittadino ha però tenuto a precisare alcuni aspetti una strada completamente distrutta a tratti presenti anche delle buche molto profonde poi le promesse ai residenti che in poco tempo sarebbe stato riparato tutto riasfaltata la strada e messe in sicurezza promesse fatte ai residenti di Contrada a Monterrato che hanno atteso per quattro anni che il sindaco di Modica Ignazio Abate provvedesse ai lavori o meglio mantenesse le sue promesse e cosa succede qua nella via Vanella 139 niente abbiamo intappalato il sindaco circa tre anni forse quindi che ci ha promesso che questa strada la faceva dopo vari documenti dopo varie accertazioni e cose e quindi non è stato possibile fino a oggi ancora cosa vi ha detto il sindaco ci ha detto che prima che finiva il suo mandato comunque la faceva e qui viene l'autombulanza per i vecchietti che sono ricoverati qua e con questa strada poi siccome sono entrati per la fognatura quindi questa strada l'hanno dissestata quindi quando è stata fatta la fognatura quindi da quanti anni è così un dieci anni forse più forse più insomma chiedo a meno questa striscia qua che l'hanno fatta per la fognatura a meno di ripristinarla le richieste dei residenti le abbiamo inoltrate al sindaco di Modica Ignazio Abate al primo cittadino abbiamo chiesto come mai in quattro anni non abbia mantenuto gli impegni assunti in quel gruppo di residenti da un accertamento che abbiamo fatto visto che ho dato io in carico ai tecnici del comune di preparare un progetto di manutenzione come abbiamo fatto in tutte le altre parti della città abbiamo scoperto che la strada non è mai stata diventata e non è stata mai presa in consegna da parte del comune quindi la strada è privata e ogni spingola particella è ancora di proprietà di ogni singolo proprietario delle abitazioni e quindi il dubbio che mi viene è quello come mai sono riusciti a fare la fognatura su una strada privata e quindi su questo sto verificando realmente se allora come si è potuta fare un'operazione del genere e vedrò obiettivamente quello che è stato il passato e tutto l'iter che è successo quando successivamente sono state rilasciate le concessioni fermo restando che per poter prendere io in consegna prendere come comune in consegna una strada che poi noi dobbiamo urbanizzarla quindi fare l'illuminazione e tutto quello che è concesso oltre alla pavimentazione ci deve essere una pubblica utilità della strada stessa e non una strada che è esclusivamente pertinenza dei residenti perché in quel caso è una strada privata e passiamo allo sport il Motuca ha registrato domenica l'ennesima vittoria adesso la squadra allenata dal coach Sammito guarda tutti dall'alto il GS Motuca suona la nona e al geotetico di Modica asfalta anche il volley club Avola in una partita che dai pronostici era assolutamente già equilibrata prestazione eccellente da parte delle ragazze della Contea con la formazione ospite dell'Avola che non riesce a entrare in partita sono apparse da subito determinate le modicane per lasciare spazio a qualsiasi altro risultato diverso dal 3 a 0 in tutti e tre i parziali il sestetto di coach Raffaele Sammito ha espresso un gioco di categoria superiore e il carattere della grandissima squadra che vede l'obiettivo sempre più vicino prova da incorniciare per tutte le giocatrici ma Erika Belluardo e Paola Terranova che chiude il match con un eccezionale tocco in seconda sono le migliori in campo il turno che rappresentava un serio ostacolo verso la promozione diventa quindi interlocutorio anche alla luce delle vittorie dell'Alus Masca Lucia 0 a 3 a Caltagirone con Oradon Bosco e del Camarina Vittoria 3 a 0 interno con CSI Polisport con Camarina e Motuca che viaggiano a Braccetto in vetta alla classifica e Masca Lucia che insegue a meno 5 prossimo turno ancora in casa per le Bianco Blu domenica 9 aprile alle ore 11.30 quando al pallone geodetico di Modica Sorda arriveranno le cugine dell'Antares Ragusa per il penultimo impegno casalingo della stagione è andata benissimo abbiamo giocato bene dall'inizio alla fine questa vittoria abbiamo portato a casa tre punti che sono molto fondamentali per noi per la classifica che ci hanno portato di nuovo in testa e niente sono molto contenta perché veramente con le ragazze siamo state in gamba dall'inizio alla fine abbiamo dimostrato tantissimo sia a livello di giochi sia a livello di squadra siamo state cariche dall'inizio alla fine la nostra è una squadra che è nata due anni fa eravamo solo noi solo le atlete e pian piano siamo cresciute anche grazie ai nostri sponsor alla nostra direzione al nostro allenatore pure che è Raffaele Sammito che ci supporta tutti i giorni e volevo ringraziare soprattutto anche il nostro presidente e i nostri sostenitori che sono tanti vi spaventa il vittoria? assolutamente no noi siamo a pari merito con il Camarina ci scontreremo fra due settimane appunto con il vittoria e speriamo di dare il meglio di noi stesse e magari portarci a casa anche la vittoria e restiamo a Modica dove è stata anticipata al 10 aprile la chiusura di alcune scuole in occasione delle festività pasquali il sindaco Ignazio Abate ha emanato un'ordinanza con la quale viene comunicato che sono stati programmati i lavori di pavimentazione dei tratti di Viale Fabrizio Cincinnato Duilio e Silla al quartiere Sacro Cuore di conseguenza per lo svolgimento dei lavori la sospensione delle attività scolastiche sarà anticipata appunto a lunedì 10 aprile questa era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito buona serata buona serata grazie a tutti